la riserva e mezzo sarebbe, quante sarebbero? 5, 6, 7. Ma vale anche quello? Parecchio, non so se vale. Io stavo lì, ho tolto insieme agli altri della medaglia che hanno vinto, sono contento di averle fatte chiaramente, di essere riuscito, nonostante la mia età, probabilmente ad arrivare a Pechino con tanta forza e quella di far ancora e di ottenere le mani di risultato, per me e per la squadra. Sento serenità, umiltà, ma sento anche una bella fiducia in questa materia, confermi? Sì, io confermo che c'è fiducia a tutte le squadre, anche da parte dei dirigenti, chiaramente, sia Berconi, della Granautica, poi insomma, il patroceo che oggi conoscevo in generale. Guarda, noi siamo veramente molto motivati e questo ci porta sicuramente un passo avanti rispetto a tutte le altre edizioni vimpiche e passo avanti per questa edizione particolare cinese. Tu sei motivato sempre, non hai bisogno di grandi stimoli. Io sono motivatissimo e anche sempre sono abbastanza, diciamo, tranquillo. Sono anche abbastanza, come dire, col fuoco dentro. Questo è importante. Bocca al lupo. Grazie. Ultima cosa, rispetto a cui ci avete dato il bocca al lupo, volevo fare un bel treppi di lupo per tutti quanti. Come sempre. Grazie, grazie, magari un bocca. Da poche ore ho già dato la nostra terrensina. Mauro Nespoli. Stai andando in campo a vedere le stagioni. Eh? Altro del calciatore. Sicuramente è stata un'esperienza. Io devo ringraziare tutti, la federazione, l'aeronautica. Comunque mi hanno dato la possibilità di essere qui a giocarmi in post, come sono giocato, penso di essermeno guadagnato. Voglio comunque ringraziare i campagli di squadra per la fiducia che mi hanno dato. Sono giovani, ho voglia di fare. Marco, non diciamo niente, aveva la mia età ad Atene. Non ci sbilanciamo oltre rispetto a questo. Ci siamo preparati molto, siamo carichi, possiamo fare bene. Il titolo europeo ce lo diamo in tasca, quindi andiamo e vediamo cosa riusciamo a fare. Dove vedi il pericolo? Ma sicuramente ci sono più squadre pericolose di quella che poteva essere l'Olimpiade di Atene. La Corea in primis continua a chiaro a tantissimo livello. Diciamo che l'est asiatico sta crescendo bene. La Russia ha riuscito a prendere un posto agli europei, ha ottenuto anche lei la qualificazione a squadre. Sono molte, sicuramente, le possibili avversarie. Cercheremo comunque di tenere dietro tutti, ovviamente. Non daremo il massimo. Tra una ventina d'anni, quando smetterai un futuro l'argomento a loro tecniche di voi, sarà un piacere. Certo. Bocca al lupo anche a te. Allora, la riserva di Buzza, vediamo dove è. Eccoci qua. Eccoci qua. Come diceva la tua collega, la riserva sta tranquilla. Insomma, non fa macumba, non fa niente. No, assolutamente. Il Serva è il primo tifoso della squadra. Ho continuato a allenarmi, a tenermi in forma. Sono assieme ai miei atleti, ai miei compagni di squadra. Se ci sarà bisogno di sostituzione, se sono pronto, va bene così. Ce l'è sempre giocata fino alla fine. Ci siamo, insomma. Il gruppo è salvo. Certo, certo. È stato bello in questi dieci giorni che abbiamo passato in Sardegna assieme. Abbiamo fatto gli atleti, ma i miei amici è stato bello. Bocca al lupo. Grazie. Marco Vecchiasco. Forse parli. Forse parli. Eh? Forse parli. Eh? Forse parli. Forse parli. Lo tiri solo con l'arco. Non mi dice meglio che lo tirai con l'arco. Non mi dice meglio. Se lo so. Avete visto che è un'intervista difficile? È complicata. È meglio che non parli. Non parla. Lo lasciamo concentrare. Però vogliamo sapere tutte le cose da lungo e lo rimandiamo ad allenarsi. Allora, questo è un gruppo che ha grandi fiducia. Un gruppo che è cresciuto molto. È un gruppo che facciamo tutti gli scontri di rito, ma può fare un grande risultato anche con la squadra. Sì. Sono ragazzi che sanno suggerire. E quest'anno cerchiamo di prendere un taglio a squadra. L'individuale? No. Ne prendiamo un altro? Ci proviamo. Dottor Pagnozzi ci ha iniziato il conto. Io ho iniziato. Nel conto Pagnozzi c'erano il taglio di Galliazzo. Non sappiamo di che colore ma c'è. Tutti gli atleti che vanno a farmi un ripiede dicono di darsi nel massimo. E fanno l'individuale, non solo per partecipare. Quest'anno puntiamo anche alla squadra. Abbiamo una forte squadra. Cerchiamo di dare al massimo. Bene. Abbiamo parlato prima delle squadre per serie di quelle forti. Questo è il centro del mondo che viene fatto in questi anni. Chi è a livello invece individuato? C'è qualche atleta che ti ha favorevolmente colpito? Dopo il 2004 il livello si è alzato moltissimo. I coreani sono sempre molto forti. Anche gli indiani non sono piaciuti molto. Però quest'anno diciamo sono tutti più o meno forti. Tutti eh? Tutti hanno lo stesso livello. Va bene. Noi ti aspettiamo una domenica sportiva invernata. Eh? È già venuto? C'erano quasi dimenticati che fossi ospite? Buonasera. Allora grazie bucar rubro.